Buonasera che Claudia Baldin è responsabile di un parco letterario molto bello, il parco letterario Petrarca che si trova in Veneto. Intanto buonasera Claudia. Buonasera. Lei tra l'altro è anche guida turistica a Padova, Vicenza e per le ville Venete, quindi luoghi meravigliosi che magari se abbiamo tempo ci racconterà un po', però con lei vogliamo parlare della Fiera delle Parole che è un appuntamento che va avanti da un bel po' di tempo e che riguarda Padova in particolare, per qualche tempo che si è trasferito anche nell'Interland, ritorna a Padova quest'anno ma ha un punto focale con tre appuntamenti, uno è già andato lo scorso sabato, che riguardano proprio il parco letterario Petrarca. Intanto ci racconta che cos'è la Fiera delle Parole e fino a quando andrà avanti in questa nuova edizione. Certo, sì, la Fiera delle Parole è un festival culturale e letterario, giunto ormai all'undicesima edizione, caratterizzato da sempre Padova, poi appunto l'anno scorso ha avuto un'esperienza nella zona delle Terne, a Diabano-Montegrotto-Terne e dove rimane anche quest'anno, devo dire, con un ricco calendario che è cominciato appunto proprio questo scorso weekend, è cominciato il 15 di settembre e che avrà come prima location Abano-Montegrotto-Terne ma altri comuni dei Colli e Ugane e anche della Persegna di Padova e poi invece approderà a Padova il 3 di ottobre. Quindi è un calendario molto ricco di appuntamenti con gli autori, ma non soltanto di letteratura, poi si parlerà anche di cinema, di musica, di arte. È un'associazione culturale, di organizzatrice, una coscia con il cuore di carta e collaborazione poi con i vari comuni. No, e allora in tutto questo marasma di belli eventi culturali che riguardano soprattutto la letteratura, ma non solo come lei diceva, ci sono poi tre momenti che riguardano invece il parco letterario di cui lei è responsabile, del parco letterario Francesco Petrarca. Intanto dove siamo, dove si concentra esattamente il parco letterario Petrarca? Sì, allora il parco letterario Francesco Petrarca è dei Colli Ugane e quindi appunto copre una superficie molto vasta, è un parco ambizioso, ma siamo nella provincia appunto di Padova, sono circa una quindicina di comuni che lo compongono e abbiamo dovuto allo così grande perché devo dire che intanto è l'unico riconosciuto in Veneto, ma devo anche dire che era impossibile lasciare fuori qualcuno perché tantissimi scrittori sono passati per i Colli Ugane, ma non sono solo passati, li hanno anche descritti. Si potrebbe dire in tutta colpa del Petrarca che qui è arrivato, qui è morto, noi abbiamo ad acqua Petrarca la casa e la tomba di Francesco Petrarca e dopo di lui sono arrivati tantissimi scrittori, i cosiddetti pellegrinaggi letterari che è proprio il tema della visita proprio di sabato 16 settembre, Alfieri, Bayron, Scelli, Foscolo, insomma tutti a cercare la scia del sommo poeta Francesco Petrarca. Siamo quindi in un territorio molto vasto, parco letterario, un po' più sono la parte operativa che gestisce un po' il parco che è però in realtà dovrebbe la sua vita alla Confesercenti di Padova e quindi è una confederazione di esercenti del servizio, del turismo e del commercio. È un po' strana questa cosa la prima volta che la si dice perché come mai magari appunto una società... Inusuale effettivamente, sì. Inusuale, sì, di categoria ha deciso di così puntare su questo perché per noi è cavallo vincente. Noi crediamo fortemente nella necessità di un turismo culturale, attento al territorio in cui ci troviamo, il turismo ha cambiato ovviamente dagli anni precedenti e vuole anche delle esperienze diverse. E quale migliore l'esperienza se non leggere il territorio dalle parole appunto di sommi scrittori come ho appena appunto nominato. Eh, certo, assolutamente Claudia, anche perché da quelle parti non vi siete fatti mancare nulla. Insomma, lei nominava Shelly, nominava Fosfo, nominava Byron, insomma mi pare che c'è davvero il gota degli intellettuali, degli scrittori del passato e naturalmente Francesco Petrarca. Io trovo che sia bellissima la realtà dei parchi letterari quando sono ben fatti e ben curati perché è un'occasione per guardare al nostro territorio con occhi diversi e per ricongiungersi anche a quelli che l'hanno raccontato il territorio. Però dicevamo che questo pellegrinaggio letterario appunto c'è stato già lo scorso 16 settembre. Ci sono altri due appuntamenti che nell'ambito della Fiera delle Parole riguardano il parco letterario Petrarca. Esatto, sì, sono tra i generali in collaborazione con un'agenzia di viaggi locale, Lo Vivo Tour Experience. Quindi domenica 24 settembre andremo a Villa dei Vescovi, che è una bene del FAI, situato nel comune di Torrella. Ed il tema sarà un racconto di Dino Duzzati. È la festa in Villa con il Mago, tratto da Conache Terrestri, in cui Duzzati parla di quella villa, la descrive e parla anche di Alvide Cornaro che qualche secolo prima di lui aveva vissuto in questa villa e anche aveva avuto un ruolo molto importante nella sua costruzione. Quindi sarà un dialogo tra il Rinascimento e il Novecento. Invece sabato 30 settembre, sempre di pomeriggio, sarà la volta di un magico giardino, giardino simbolico di Villa Barbarigo a Galtiniano Terne, in cui questa volta sarà un autore di un libro ispirato proprio al labirinto che c'è nel giardino, il labirinto della vita. Quindi la visita sarà proprio utilizzando questa interpretazione molto particolare di questo autore, Giulio Osto. Sono i nostri appuntamenti. Claudio, quali sono gli orari di questi tour? Allora, quello di domenica 24 settembre inizia alle ore 10 e 30, fino a mezzogiorno, poi seguirà una piccola mattinè di musica classica. Sabato 30, invece, sarà di pomeriggio, dalle 14 e 30 alle 16, a seguire sempre un mattinè di musica classica all'interno del giardino. Molto, molto interessante. Quindi per scoprire la realtà dei parchi letterari, di questo in particolare, appunto, tutto il territorio intorno ad Arqua, che comprende molti comuni, parliamo del parco Francesco Petrarca, che è appunto diretto, coordinato da Claudia Baldin, che è stata con noi. e Claudia, grazie davvero, sarà impegnatissima allora per i prossimi fine settimana, perché lei parte integrante di questo tour, lei lo cura personalmente? Sì, sì, curiamo un po' tutti i dettagli, insieme poi anche poi tutte le parti che lo vanno a sostenerlo, nel senso che ci sono poi anche attività di ristorazione, bar, notteche, alberghi, pet and breakfast, insomma, perché appunto poi ci sono persone che si fermano anche nel nostro territorio. Quindi io devo ringraziare ovviamente tutti che sono parte di questa grande squadra, soprattutto la grande famiglia dei parchi letterari, quindi la società Paesaggio Culturale Italiano e l'Adalda Righelli, che ovviamente sostengono le nostre iniziative. E che noi abbiamo interpellato spesso proprio per farci raccontare queste belle realtà di questo bel paese, che può essere sempre più bello naturalmente se ce ne prendiamo cura. Claudia, grazie davvero, grazie, buon lavoro per i prossimi fine settimana e magari ci risentiamo quando ci sono altre cose interessanti come questa da raccontare. Molto volentieri, grazie a tutti e buon consentimento. Grazie, arrivederci. Grazie.